cazzo c'entra è un argento 1 carriato lascialo stare se faccio il fulbo con i più deboli ma sappi che io sono ultra con i poteri ma sappi che io sono guarda Fabio c'è un problema il Fabio se vorresti rinforzarli io sono ultra con i più leonardi c'è un rinforzo barriga qui poco più oddio ma un muro è barrigato guardi ma che cazzo è chiuso lì scappi 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 la dova tutto che mi stanno busciando dove è qua quale bomba ne so 2 fratamo 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 fratamo